ciao a tutti cari amici bentornati nella nostra rubrica i racconti dell'imbrunire il nostro appuntamento del mese di ottobre in cui raccontiamo vecchie storie di fantasmi la scorsa settimana abbiamo iniziato questa nuova soggione leggendo la prima parte di un racconto scritto da luisa baldwin che si intitola le grandi acque non possono spegnere l'amore abbiamo fatto la conoscenza del protagonista il l'avvocato john horton un giovane scapolo che decide di prendere per l'autunno una vacanza in una casa in una cascina in campagna e questa cascina era prima abitata da una famiglia che da poco l'ha lasciata per trasferirsi in australia luogo in cui non è ancora giunta perché come sappiamo a quei tempi alla metà dell'ottocento i viaggi per mare erano molto lunghi e quindi abbiamo lasciato il nostro protagonista arrivare in una cupa serata di ottobre in questa cascina che è descritta con molti particolari dall'autrice proprio per creare l'atmosfera giusta e lui chiaramente è convinto di trascorrere una piacevole vacanza rilassante ma noi immaginiamo che non sarà così quindi vediamo che cosa succederà in questa seconda parte orton era molto soddisfatto dei suoi alloggi bucolici l'assoluto silenzio della casa quasi vuota che avrebbe reso un'altra persona malinconica su di lui aveva un effetto calmante e riposante durante il giorno passeggiava per le campagne o si intratteneva nel giardino e nel frutteto e passava le sere da solo leggendo e fumando nel suo salottino la signora belt gli portava la cena alle nove precise e di solito poi rimaneva un po a chiacchierare con il suo pensionante e gli raccontava lunghe storie sui vicini di casa e sulla famiglia miteland mentre gli serviva il suo pasto serale in diverse occasioni gli disse che il fidanzatino di ester michael win era passato a trovarla per parlare di lei o per portarle il giornale che riportava notizie sulla nave man mano che essa raggiungeva le diverse tappe del suo lungo viaggio vedete il petrel è un vegliero signore e non si sa quanto tempo ci metterà ad arrivare in australia le ultime notizie che michael ha avuto arrivavano da alcune isole con un nome strampalato e anche ricevuto una lettera da ester spedita da un posto chiamato madeira e ora non si dà pace finché non sentirà che la nave è giunta senza problemi alla destinazione successiva da qualche parte in africa mi sembra che abbia detto starà parlando del capo di buona speranza signora belt ecco è proprio quello il nome signore il capo di buona speranza e lui si preoccupa in continuazione di temporali e naufragi ma io gli dico sempre che il mondo è grande e il mare ancora più grande e molto probabilmente mentre il vapore che si alza dalla pentola sul fuoco gira vorticosamente sopra le nostre teste qui in inghilterra il petrel è ancorato sicuro sotto un cielo terzo da qualche parte ma lui prende le mie parole e le rigira contro di me sì mi dice e allora quando qui sulla costa c'è calma piatta la nave potrebbe star facendo un naufragio in un temporale e la mia ester potrebbe star negando michael win deve essere un giovane dal temperamento molto nervoso esattamente signore e vi confesso che quando raggiungerai miteland sarà un bene perché non lascerà qui nessuno che si angosci per lui quanto lui si angoscia per ester era metà ottobre e orton alloggiava la fattoria già da un mese il tempo era ormai freddo e umido e lui iniziò a pensare che fosse ora di tornare al calduccio nella sua casa di londra perché la pioggia autunnale alla fattoria rendeva tutto bagnaticcio e coperto di muffa era tutto il giorno che imperversava il maltempo e la pioggia era caduta a catinelle tenendo lo prigioniero dentro casa ma si era tenuto occupato scrivendo lettere e leggendo alcuni documenti legali che il suo impiegato gli aveva portato e il tempo era passato rapidamente in effetti la sera sopraggiunse così in fretta che orton non aveva idea che fossero già le nove quando la signora belt entrò in salotto ad apparecchiare la tavola per la cena ha smesso di piovere signore disse mentre ravvivava il fuoco che divampò in una vivace fiammata e meno male perché michael win mi ha appena detto che gli argini del fiume si sono spaventosamente alzati da questa mattina e l'acqua è arrivata a toccare livelli che non si vedevano da anni ma stasera per fortuna c'è la luna piena quindi non c'è rischio che qualcuno cada accidentalmente nel ruscello la testa di orton era troppo piena di cavilli legali per prestare attenzione alla signora belt e l'anziana vedendo che lui non era in vena di conversazione non parlò più alle dieci e mezza portò al suo pensionante del liquore con un po di acqua calda e la candela per la notte e gli augurò sogni d'oro orton rimase a leggere per un po poi scrisse due righe nel suo diario sulla giornata appena trascorsa che in realtà si era rivelata non degna di alcuna nota accese la candela e si avviò al piano di sopra conosco a memoria l'ordine esatto di ogni singola cosa che avvenne quella sera anche la più insignificante poiché il mio amico mi ha narrato gli eventi di quella notte molto spesso e senza mai dimenticare o aggiungere niente era sua abitudine come ultimo gesto della serata chiudere le tende guardò fuori dalla finestra e anche se la luna era piena le nuvole non si erano ancora diradate quindi la sua luce era discontinua e confusa quando spense la candela sul comodino era mezzanotte meno 20 tutto sembrava preannunciare una nottata di tranquillo riposo lui era stanco e in casa regnava il silenzio più assoluto aveva smesso di piovere il vento ormai era poco più che un sospiro e gli sembrò non appena posò la testa sul cuscino di cadere in un sonno pesante e senza sogni ma poco dopo le due horton si svegliò di soprassalto passando in un istante da un profondo torpore al possesso di tutte le sue facoltà alla massima intensità e con un'insopportabile sensazione di paura che gli pesava addosso come mille incubi si alzò e si guardò attorno il sudore gli imperlava la fronte il cuore gli batteva come se stesse per soffocare era convinto di essere stato svegliato da un rumore strano e terribile che aveva risuonato fin nell'estrema profondità del suo sonno e la possibilità che un tale evento potesse capitargli di nuovo lo terrorizzava in maniera inenarrabile la stanza era inondata dalla luce della luna che penetrava dalle strette finestre invadendo il pavimento come strati di argento fuso mentre i pioppi del giardino gettavano ombre tremolanti sul soffitto poi horton udì nel silenzio della casa un suono un suono che non era né un lamento del vento né il fruscio degli alberi e che non assomigliava ad alcun suono che avesse mai sentito nitida e distinta come se fosse stata nella stanza insieme a lui sentì una voce che piangeva e si lamentava con un dolore che andava oltre la tristezza umana era come se stesse ascoltando il lamento funebre di un'anima persa balzò in piedi strofinò un fiammifero e accese la candela e afferrando la sciabola appesa di fianco al letto aprì la porta chiusa a chiave e stette in ascolto per quanto riguarda i rumori notturni abituali la casa era silenziosa come una tomba e il chiaro di luna si riversava all'interno attraverso la finestra sulla scalinata come una cascata di luce pallida quel suono di pianto ultraterreno che faceva fremere il cuore e l'anima proveniva dal salone sottostante e horton scese le scale fino al pianerottolo dell'ammezzato là sul gradino più basso era seduta una donna col capo chino e il volto nascosto tra le mani che dondolava avanti e indietro in un accesso di dolore estremo la luce della luna la illuminava completamente e lui notò che era solo parzialmente vestita e coi suoi capelli scuri erano sparsi disordinatamente sulle spalle nude chi siete e perché vi disperate così disse horton e la sua voce tremante risuonò nella casa muta ma lei non si mosse e non parlò necessò di piangere lentamente horton scese la scalinata illuminata dalla luna finché non furono solo quattro gradini a dividerlo dalla donna lo stava assalendo una paura mortale parlate se siete un essere vivente gridò la figura si alzò si girò e lo fissò per un attimo che a horton parve un'eternità poi si gettò a tutta forza sulla punta della sciabola che egli inconsciamente aveva brandito ma mentre la forma impalpabile scivolava sulla lama dell'arma horton ebbe come l'impressione che un'onda gelida si stesse infrangendo su di lui e cadde svenuto sulle scale per quanto tempo rimase privo di sensi non seppe dirlo ma quando rinvenne e aprì gli occhi la luna era tramontata e dovette cercare a tentoni nell'oscurità la via per tornare alla sua stanza dove la candela ormai si era consumata completamente quando orton scese a colazione sembrava che fosse stato malato per un mese e le sue mani tremavano come quelle di un alcolizzato in qualsiasi altro momento la signora belt sarebbe rimasta sconvolta dal suo aspetto ma quella mattina era troppo scossa da alcune brutte notizie che aveva appena ricevuto per notare se il pensionante stesse bene o no orton le chiese come avesse dormito perché se anche non avesse udito i terribili suoni che avevano svegliato lui gli sembrava comunque impossibile che non avesse sentito nemmeno la sua pesante caduta sulle scale la signora belt rispose alquanto sorpresa per il fatto che il suo pensionante si preoccupasse per la sua salute che non aveva mai dormito così bene perché al calare del vento la notte si era fatta alquanto silenziosa anche vostro figlio non ha sentito nessun rumore ha dormito bene chiese orton con eccitazione la signora belt era impaziente di comunicare le cattive notizie al pensionante e facendogli notare che lei aveva di meglio da fare che chiedere alla gente come avesse dormito disse a orton che michael win durante la notte era caduto nel fiume nessuno sapeva come ed era annegato e proprio in quei momenti stavano portando a casa il cadavere che colpo tremendo sarà per la sua fidanzata disse orton profondamente scioccato già non sarà una bella notizia da ricevere per lei che si aspetta di riabbracciare il povero michael in persona a breve signora non avete per caso un ritratto di ester michael da mostrarmi ormai l'ho sentita nominare così tante volte che sono curioso di sapere che aspetto abbia l'anziana si ritirò a rovistare tra i suoi tesori e trovò una piccola fotografia stampata su vetro che esterle aveva regalato prima di partire quando rientrò nella stanza stava lucidando il ritratto con un lembo del grembiule non è una foto professionale signore è stata scattata su una rulotta alla fiera della contea ma la ragazza è venuta bene il ritratto le somiglia molto era davvero un'immagine di bassa qualità un tentativo di fotografia primitivo quindi orton si alzò dal tavolo con il ritratto in mano per esaminarlo meglio davanti alla finestra lì circondata dal sottile dalla sottile cornice d'ottone riconobbe tra tutti i volti possibili proprio quello che l'aveva sconcertato quello che gli era apparso nella visione della notte precedente soffocò a fatica un gemito e si girò dando le spalle alla finestra con una faccia così pallida che quando restituì la fotografia alla signora belt lei gli disse non vi sentite bene signore no in effetti sto malissimo devo assolutamente ritornare a londra oggi stesso per farmi vedere dal mio dottore vi pagherò comunque fino al giorno concordato ma se devo stare male preferisco stare male a casa mia perché orton non avrebbe passato un'altra notte alla fattoria maitland per tutto l'oro del mondo a mezzogiorno era già tornato al suo ufficio i suoi impiegati pensarono che dimostrava dieci anni in più di quando era partito per la campagna in seguito poco più di tre settimane dopo il suo ritorno a londra quando i suoi nervi stavano iniziando a calmarsi a tornare a uno stato di normalità la sua attenzione venne inaspettatamente richiamata al ripugnante soggetto della visione che aveva avuto quella famosa notte lesse sul quotidiano mattutino che le notizie in arrivo dal capo di buona speranza riportavano il naufragio del vegliero petrel diretto in australia causato da un violento temporale al largo della costa poco prima che il vaporetto postale lasciasse il capo diretto in inghilterra non vi erano stati superstiti dopo aver attentamente confrontato le date calcolato anche il fuso orario john horton si convinse sempre più fortemente che la sventurata nave era colata a picco esattamente nel momento in cui lui era stato testimone oculare dell'apparizione di ester miteland lei e il suo amante divisi da miglia e miglia erano morti entrambi annegati nello stesso istante michael win nel fiumiciattolo vicino a casa ed ester nella profondità di un oceano lontano e con questa triste conclusione di questi due giovani innamorati divisi dalle circostanze della vita ma uniti da un tragico destino si conclude questa puntata e questo racconto questo primo racconto della nuova stagione dei racconti dell'imbrunire spero vi sia piaciuto vi do appuntamento alla settimana prossima per un nuovo racconto ciao a tutti e a presto